Mascherine e costumi di carnevale, gadget, articoli elettrici a bassa attenzione, tutti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Oltre 20 attività commerciali spezionate, circa 120.000 articoli sequestrati, confiscati e distrutti per quasi un milione di euro, con sanzioni amministrative elevate per 10.000 euro. Questi numeri più significativi di una vasta operazione su scala regionale, portata a termine dai carabinieri del NAS Abruzzo di Pescara nelle ultime ore. I NAS di Pescara in questi giorni hanno ispezionato moltissimi negozi della regione Abruzzo, nelle quattro province, e l'esito dei sequestri, che parliamo appunto di 120.000 pezzi stimabili per un valore di circa un milione di euro, è frutto di un'attività di controllo, di vigilanza, ma di attività anche di sequestro scaturite poi in confische determinate dalle Camere di Commercio delle quattro province abruzzesi. Il provvedimento di confisca è propedeutico a una distruzione, ci siamo occupati anche delle distruzioni attraverso il conferimento in siti autorizzati e abbiamo realmente tolto dal mercato e distrutto tutti questi articoli che potevano essere pericolosi per la salute. Acquistare prodotti che non sono tutelati da un marchio è una garanzia di non sicurezza del marchio, ma l'occhio del genitore nell'acquisto di costumi e maschere di carnevale deve cadere sull'etichetta e sul marchio CE. Sono assimilati a giocattoli, pertanto hanno garanzie di sicurezza come ad esempio l'essere articoli ignifughi e quindi la possibilità di essere indossati dai nostri bambini con assoluta garanzia e con assoluta sicurezza.